Comincia nel migliore dei modi la Final Eight di Coppa Italia femminile per le squadre siciliane impegnate a Ostia con le altre otto finaliste. Due vittorie su due partite giocate per la Waterpolo Messina, una per l'Orizzonte Catania. Le Etne hanno sconfitto Pescara con il punteggio di 15-7 mentre Messina ha battuto la Siss Roma a 17-10 e in mattinata ha superato anche l'ostacolo Bogliasco punteggio 14-12 con una grande prestazione della Chiappini e l'allungo decisivo nell'ultimo quarto. Mentre andiamo in onda è in vasca all'Orizzonte di Martina Miceli contro Rapallo. Oggi si completerà il quadro dei gironi eliminatori. Ricordiamo che le otto finaliste sono state divise in due gruppi da quattro. Le migliori due classificate di ogni girone si qualificheranno alle semifinali per l'assegnazione di un posto per la finalissima che in programma sabato e assegnerà il primo trofeo della stagione. Soprattutto l'intera finale otto servirà a tastare il polso delle squadre migliori anche se qualche assenza importante fra le convocate c'è. Il tutto in vista di importanti impegni europei di campionato che partiranno dal mese di gennaio.